Comunque non è male questa cosa, perché vuol dire che devo fare qualcosa al volo, vi porto dietro con me. Tanto sono due click, avvio, adesso non è che si sentirà l'audio più bello del mondo, però... Eh? Va bene direi. In un attimo siamo tornati in spiaggia, pure per la cacca, magari no. È stato molto difficile far funzionare tutto questo Amaradam, perché le applicazioni gratuite... No, non ve lo voglio far sentire perché vi voglio troppo bene. Allora, le applicazioni gratuite o facevano sentire solo l'audio, solo l'audio, o facevano vedere il video e l'audio era una cosa inascoltabile. Ok? C'erano queste due possibilità. L'applicazione che ho usato adesso invece è costata 20 euro, ma funziona. E quindi niente, per fare qualcosa tipo questo, devo andare di là, chiacchieriamo mentre faccio qualcosa al volo e poi torno in live, direi che è 20 euro, è l'unica che funziona, l'unica, purtroppo. Oh, perdonatemi che non l'avevo visto... Allora, Ivan si è subbato col Prime. Anche... Ok, grazie. Perché hai regalato la Sabba Juice e poi ti sei subbato col Prime. Grazie mille. E grazie anche a John 2021. Buongiorno, Gattone. Tenevo ad informarle a chi mi piace scrivere e che sperano di riuscire a pubblicare le mie storie un giorno. Lei mi ha ispirato ad aprire un canale in cui parlo principalmente dei miei libri. Molto interessante, molto interessante. Grazie. Confido nella sua ficcante benedizione. Tanti auguri. Sì, ho speso oggi per qualcosa che funzioni. Infatti l'ho presa ieri l'applicazione, avevo il culo talmente stretto che se mi mettevi un pezzo di carbone tra le chiappe diventavo un diamante. Classica battuta, vecchia, come il cucco. Però minchia, avevo paurissima perché ne avrò provate una decina di applicazioni, nessuna andava. E ho detto, vabbè, prendiamo quella lì. Con cinque recensioni. No, anzi, una recensione è negativa. Però, ok. Ho detto, vabbè, proviamo e ha funzionato. Ah, ho fatto un sospiro di sollievo incredibile. Poi, per carità, non sarà il massimo della qualità. Comunque il microfono... In realtà, forse, potrei anche collegare un microfono all'iPad. La si potrebbe attrezzare, la cosa. La si potrebbe fare... Vedo se si può fare. Perché il microfono, poi, se ne può attaccare uno esterno. Ok. A me bastava il fatto che vado un attimo in cucina. Magari sto cucinando. Magari succede qualcosa di interessante. Vi voglio far vedere se è il fettone. Posso farlo facilmente. Non permette di fare le stesse cose quello che faceva di Streamlabs. Sì, però devi staccare la live. No, è proprio una cosa diversa. Allora, con l'applicazione Streamlabs, ma anche facendo le live dalla GoPro, tu puoi fare la live a parte. Infatti, le live di cucina comunque le farò con la GoPro, che la qualità è migliore, l'audio è migliore, tutto meglio. Per le live di cucina. E poi registra anche il video. Se devo fare uno spostamento veloce, grazie mille a scotch per i 13 mesi, è più comodo questa cosa qua. Perché io ho audio e video dall'iPad, ma tutto il resto, quello che streamma, è il PC. Capito? Quindi gli alert... Basta. Vanno tutti tramite il PC. Ho tre sacchi di carbone. Se vengo quanto... Quando lei è teso, apriamo la società, va bene. La GoPro non è male in live, non è male. Volevo farne una, però non ho roba da cucinare, come avete visto, quindi è difficile. Dai, eh? Videogiochiamo? Anche perché siamo qua per questo. Però... Soddisfatto, soddisfatto. Strano l'audio, perché io sentivo da Dio anche prima, però... Eh, che vi devo dire. Siete stronzi. Schifosi, proprio. No, raconofobico, non credo che funzioni da fuori per dentro. Credo che vassano in Wi-Fi. Eh, sì, devo avere il dispositivo collegato al Wi-Fi. Credo si possa fare anche con un collegamento esterno, ma lì diventa un attimino macchinosa la cosa. Ho detto, vabbè, non andiamo ad imbarcarci in avventure troppo... troppo fastidiose. Tanto mi accontento di quel che ho. Eh, Simo, assolutamente sì. Non hai idea di cosa ti sei perso. Allora, raccogliamo gli vovi. Da quello che si diceva ieri, noi bisogna... Cioè, noi bisogna... Per passare di livello con le lasagnone, bisogna chiacchierarci due o tre volte. Noi le due volte le abbiamo già fatte. Adesso andiamo per la terza quest'oggi. Quindi, auma auma, secondo me... secondo me... non dico che torniamo a casa con una muliera oggi. Però... iniziamo ad avere delle ragazze belle ingolosite. se... se mi è concesso dirlo. Bessimo ci sta. Sei una persona fantastica. Allora, i cioccolatini non li ho, però ho i fiori e l'anello abbandonato di mia nonna. I piccioli... tu fatti i fatti tuoi, Cazzo vuoi? Va, arriva, scrive. Che cazzo scrivi? Non scrivere. Portiamo a casa tutte e tre. Perché no? Dove è scritto che la poligamia è illegale? Marta, Buongiorno gatto, le chiedo la benedizione per riuscire a laurearmi nonostante il virus. Per fortuna ce l'è a rallegrarmi. Ma ovviamente oltre alla laurea si attende anche a Animal Crossing. Mamma mia, non me ne parlare. Io sto cercando perennemente di dimenticarmi. In Italia. È illegale, lo so. Che poi, la poligamia è illegale per motivi specifici. Parliamo di questa cosa. Partiamo di questa cosa. Facciamo un po' di informazione questa mattina perché mi sono rotto le balle del coronavirus che tanto ormai non c'è più niente di nuovo. La solita gente che sa male, sta male. Ma sì, sai che roba. Mai capitasse a me che ci resto secco. Troppo. ho iniziato a crescere anche l'altro pratino. Che bello, che bello. Per motivi giuridici... Eh, ho capito. Ma, allora, un gran giurì si è riunito e ha deciso no. Un uomo o una donna non può avere più di un partner di sposalizio. Ma la domanda è perché? Perché? Perché la risposta sarebbe cazzi suoi. Cioè, a me sinceramente non me ne frega niente. C'è una cosa di cui mi possa fregar meno di quello che fa nella vita privata un'altra persona. Con altre persone nella loro vita privata. Per la divisione dei beni. Quindi è una cosa più... È un problema monetario, diciamo. Puoi avere più partner ma non moglie e mariti. perché poi dopo ci potrebbe essere una lite per un'eventuale come si chiama... Eredità? Vabbè, la religione è quella lì è un'altra questione. Grazie al cazzo. La religione te lo impedisce. Però quella... Immagino che quelli che vogliono sposarsi più di una persona abbiano un altro tipo di idea. Quindi, ripeto, anche lì sta ai cazzi di ognuno. Anche perché, ok, che siamo in Italia c'è il Vaticano col Papa che ricordiamo non è positivo al coronavirus. Lo abbiamo letto ieri siamo tutti più sollevati. Però non è che il Papa viene a casa tua e ti dice oh! No, eh? No. Già provato, colonnello? Non funziona. Ah no! Di provare l'altro trattore? Ah! cazzo, cazzo, c'hai ragione! Quindi tu dici prima di comprare il nuovo trattore... Cioè, il nuovo trattore forse non si attacca ai vecchi attrezzi. Sarebbe una scoreggia. Che cazzo ho detto? Perché? Perché? Santo cielo! Oh, Turetta. Stan dicendo? Lascio a perdere, neanche io. Volevo dire sarebbe una stronzata solo che probabilmente non ne avevo una in canna e quindi è uscita solamente aria. Come l'ho salvata? Come ho salvato questa battuta? Ragazzi, sono o non sono il miglior comico italiano? Non c'è un cavo... Cioè, non lo so se c'è da raccogliere, non c'è niente. Lasciatemi stare Esprit, non mi dovete parlare male di Esprit qui appena per Mabal. Vi ammazzo, siete praticamente morti. Scusami, Gabriele. Allora, dobbiamo dobbiamo annaffiare le rose che sono umide ma non molto umide e noi le vogliamo molto umide le rose perché non so c'è un feticismo suo già. Che palle! L'annaffiare non esce mai. Ecco qui. Crius è fondamentalmente motivo di cultura religiosa. La poligamia e il poliamore sono cose che ancora poco conosciute e riconosciute anche nella comunità LGBT+. Che dovrebbe difenderle. Ma guarda, io ti dico non credo sia così anche perché ormai nel 2020 ognuno fa veramente il cazzo che gli pare in qualunque ambito. Credo sia più una questione effettivamente monetaria e... ciao Rex, ciao Rex, bello lui. Monetaria barra ereditiera perché effettivamente più più persone in ballo ci sono all'interno di un nucleo familiare più si vanno a creare casini. Allora, metti che c'è un uomo che sposa due donne. sposa due donne le ama entrambe tantissimo. Con una ci fa i figli con l'altra invece ci passa solamente va ai musei. Quest'uomo magari vivono tutti tutti e tre tutti e quattro perché metti che ha fatto il figlio in una casa lui muore. A chi va la casa? Alla moglie col figlio o alla moglie con cui andava nei musei? E perché? Si entra forse in un ambito un po' troppo pericoloso. Si va a creare veramente tanto che... Ma che cazzo vuole John? Vaffanculo John. Ah sì, ce l'avevamo ripromessi di riparare uno degli edifici? No, non ce l'avevamo ripromesso ma guarda io quasi quasi ci vado per perdere tempo per... ma perché è successo questo? No, scendi. Dicevo, per perdere tempo e poi dopo andiamo a... a Van Gulen. Cioè, vorrei arare anche del campo. Eccolo là! C'è anche la missione di araramento del campo. Vai! Esistono i testamenti? Sì, però si va a creare comunque tensione e casino. È sempre un problema quando ci sono di mezzo i soldi. I soldi rovinano tutto famiglia, amicizia qualunque cosa quindi è sempre meglio direi che ci sta la legge contro la poligamia. Sempre un casino. Basta essere poveri. Ecco, perché ti sei permesso due matrimoni poi basta non puoi permetterti più un cazzo. Lilithee per la sub. Aspetta, 4K girano voci delle sue benedizioni. Le chiedo quindi merito ad un bar che aprirà un centro estetico al quale ho investito. Tantissimi auguri. Cazzo, che investimento figo. Tantissimi auguri. Ma adesso, scusa, a parte il fatto che non so se mi dispiace dirtelo, però mi sa che è il periodo peggiore per aprire un bar. Ho da fare. Ma che due cazzi. Perché adesso non è obbligatorio stare distanti tipo due metri, Grazie a Keno per il ride. Grazie. No, 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 come? Sì, 800 euro, cazzo, subito. Ho sbagliato. Cazzo, ma ci ha pagato tantissimo rispetto a quello che ci pagano tutti gli altri per qualunque cosa. Stavo dicendo? Sono perso. Dice che vince la moglie col figlio. Eh, ho capito, ma magari lui passava più tempo con l'altra moglie e si divertiva di più con l'altra moglie. Non so, cioè, boh. Mi dispiace tantissimo, Willy. Non deve essere una situazione funky. Due metri. Ah sì, due metri stavo dicendo. Nei bar bisogna stare distanti tra le persone, quindi tu non puoi entrare in un bar. Cioè, il bar è aperto, però se tu ci entri devi stare a due metri da tutti gli altri esseri umani, che è una regola di vita per quanto mi riguarda. Però non tutti i bar te lo permettono. un metro e niente servizio al barco. Ah sì, adesso non volevo parlare di cose tristi però con voi mi dispiace un sacco. Attenzione con i testamenti perché se io muoio e decido di lasciare tutto a uno e niente all'altro non mi permettono di farlo. Ah, puoi giocarti una certa percentuale ma puoi tagliare fuori non puoi tagliare fuori qualcuno legalmente. Ma che cazzo? Però ci... Neanche da morto posso fare quello che voglio. Che palle. Ma che storia. Va bene. Tu ci sei passato... No, non voglio fare battute chiedo scusa. Non mi va. Non voglio mancare di rispetto. Ci mancherebbe. Scusate, scusate. Sono frizzantino stamattina. Devi lasciare un minimo a tutti. Porca vacca. Da morto non puoi fare quello che vuoi. Beh, vedi. Ma quindi non si può fare quella cosa di lasciare tutto in beneficenza. Non esiste quella cosa. È un'invenzione dei film al gatto. Lasciare tutto al gatto. Quelle cose lì non si possono fare. Non si possono fare. Tutto a me, dici, Gabriel. Ma che schifo, guarda. Tutto terribile. In America puoi. Qui non si può. Ma perché? Cioè, che vuol dire questa cosa qua? Ma metti che io faccio un figlio. Un figlio stronzo. Che mi sta sul cazzo. Perché è stupido. Metti che vuole farlo youtuber. Questo ingrato. io ho lavorato una vita per farlo andare a scuola e questo qua vuole farlo youtuber. E dopo voglio... Non voglio lasciargli i soldi. Devo per forza. Prima di morire lo ammazzi. lascio una clausola nel testamento che gli lascio i soldi a parte 10.000 euro per il killer. Grazie allo stato italiano. No. Perfetto. Santo cielo. Tutto... Tutto una schifezza quindi mi state dicendo. Io non vorrei che il Simo magari si fosse offeso per... Non volevo far... Mi scusi. Non... Non ho visto più scrivere. Non vorrei. Non vorrei. Chiedo scusa. Non ho fatto battute però non... Magari il pensiero. Grazie. Si figuri. Ecco qualcosa per te. Grazie. Ecco qua. Spendi tutto nella bara così si inculano. Ma credo che quella sia a carico del destinatario. Cioè di... Di chi va. Allora abbiamo fatto questo adesso voglio andare a darare un campo. Arriva il trattore oggi adesso vediamo. Vabbè beh ma in quel caso c'è stato divorzio anche in mezzo. Credo che la divisione sia stata fatta prima della immagino morte. Luke. Grandissimo Luke. Ciao. Ehi ciao. Allora. Sto qui vicino. Quanto è? 500. Cioè mi paga meno per perdere un'ora della mia vita a dargli il campo. Anziché... Cioè... Mi ha pagato di più per riparare un edificio. Quella storia di Topolino. Ma non è di Topolino quella cosa lì. Era... Era anche un Films. Com'è che si chiamava il Films? Ti lascio l'eredità ma devi prima spendere tutti questi soldi in... in tutto tempo. Non mi ricordo come si chiamava. Sto andando a vedere se posso raccogliere dal campo. Niente. Bisogna arare e basta. Ok. Abbassiamo. Grazie ad Andros per gli otto mesi. E... Piano. Ok. Simo non ha più scritto veramente. Io spero che non si sia offeso. Spero veramente. Mi preoccupo adesso. Non voglio aver... Si preoccupa. che cazzo dove devo passare adesso? Ok. Il diritto pare qua e poi... E poi mi incuro. Vabbò. Come sempre. Ma no. Aveva detto che c'era passato. Volevo fare una battuta lasciando intendere che c'era passato. Ah ma quindi sei morto volevo dire. E quindi... Quindi sei morto e sei passato per il testamento. Ma ovviamente poi ci ho pensato dopo e avrà avuto una perdita in famiglia. E mi dispiace non volevo fare battute. Mi sono fermato ma non ho detto niente. Morrei mai. Purtroppo delle volte mi escono delle cazzate prima di... Come chiamare un figlio? Ho creduto sia il problema più grande della vita di un essere umano. E non è... Non è banale la domanda avrei dei figli perché io direi sì senza problemi perché mi piace l'idea di avere qualcuno nella vecchiaia che pensa a me ma anche di creare e costruirmi una famiglia. E questo è il pro. Il contro è tutto il resto. Cioè stare dietro a un figlio è effettivamente molto pesante. E lo dico io ho semplicemente un cane. Che non è. non è la stessa cosa anzi è già è già questo ti dà ti dà molto cazzo cazzo non è non è una cosa banale non è una scelta leggera non è non lo so poi magari si suba il termos non ha il padre no miseredato Lili causa lavoro non riesco più a seguire le live ma il rinnovo non lo dimentico mica eh nel cuore sempre mortadella bella prossimamente un video prossimamente registrato ieri che bello che bello fa un figlio e poi lui cura il cane no cioè più che altro pensa ai primi tempi ah il cane da portare fuori e il figlio che piange non lo so non è una situazione c'è una situazione adesso non è che sono nella merda sto per morire per il fatto che mi inculo adesso tutte le mele qui ah le mele altrui non me le segna di verde hai capito ah no non è vero me le segna eccola qua però non escono due per volta come da me che barbonata queste mele qui ok quindi sì non è non è una cosa banale pensare di avere figli poi vabbè c'è il lato economico però il lato economico in realtà puoi puoi comunque ehm arginarlo insomma poi ti metti via dei soldi come come aprire un mutuo ti metti via dei soldi per il futuro del figliuolo anche perché non viviamo in America quindi per fortuna non è che devo smettermi via 100.000 dollari all'anno per mandarlo poi all'università però ci sono molti fattori non è una cosa semplice non è né semplice né banale decidere di avere un figlio è molto è molto importante anche pensarci perché sembra scemo ma dire gli posso dare una bella vita nel senso sono abbastanza bravo poi dici vabbè sti cazzi impari eh più o meno eh più o meno poi come al solito non vuoi fare gli stessi errori dei tuoi genitori e quindi ti metti a strafare e però fai peggio non è non è una roba semplice non è una roba semplice il solito discorso voglio dargli tutto quello che io non ho avuto sì ma magari lui non lo vuole o magari è roba che volevi tu e non vuole lui insomma non è non è non è è molto complessa come cosa molto complessa non so se riusciremo a tenerlo come si deve e lì bisogna vedere lì bisogna vedere perché ripeto è molto è molto non so quanto costo per il cibo è una bocca in più da sfamare e finché non cresce non è neanche tutta sta grande roba i pannolini credo sia la cosa che costa di più adesso non so se c'è cold in chat che magari ci può confermare queste cose non lo so non lo so cioè il cibo non credo che da due a tre bocche cambi poi così tanto però ripeto non non l'avevo mai provato non lo so costano di più cose tipo il cinema serata cinema vai al cinema 20 euro via adesso vai al cinema 30 euro e cazzo è un incremento mica da ridere è un incremento del 50% la navicella che cos'è la navicella? la navicella il seggionino e tutte le cose per portarlo costano un sacco si è vero si è vero ricordo farenz viper che hanno c'era questo passeggino che costano una roba tipo 200 euro beh va da sotto c'ha il motore 25 il bimbo paga ridotto dipende dal cinema mi sa per la patente per la patente ti parto al 1500 euro non ho speso così tanto anzi credo di aver speso 300-400 più le guide credo di essere arrivato a 600 euro massimo per la patente non costa così tanto 200 euro è un regalo calmi calmi avete fatto il corso voi o cosa? perché se avete fatto il corso grazie a Laris 4 mesi buon anniversario gatto non mi ricordavo di dover aggiornare ogni mese ma non so che ho parlato di quelli qui grazie mille grazie mille si ricorda se si ricorda neanche i miei potevano permettersi di farmi fare la patente con il corso ho fatto da privatista sai com'è studi impari e fai si credo credo di aver pagato sui 600 euro o 200 o 300 per l'esame più le guide che quelle sono obbligatorie grazie a Negalo per i 9 mesi poi chiaro magari la famiglia non ha neanche 600 euro da darti ci sta ma perché pagare il doppio il corso è incluso nel plezzo no Sara non è possibile cioè il corso a meno che non fosse un corso fatto alla Carlona te lo fanno te lo fanno pagare perché perché sono le scuole guida che fanno il corso l'esame invece te lo fa lo stato se l'esame poi te lo fa anche quelli della scuola guida lì inizia ad esserci qualche broglio il corso era incluso con l'iscrizione a scuola guida e appunto io non l'ho fatta l'iscrizione nella scuola guida è quello che sto dicendo io non sono andato a scuola guida sto parlando della patente del trattore no della macchina sì sì io non ho fatto scuola guida non ci sono mai stato cioè in scuola guida ci sono stato solo per fare le guide per le ore di guida basta che vai in una scuola guida e dici guarda devo fare 10 ore e te le fanno fare che poi mi telefonava a caso ehi devo andare qua vieni va bene lo accompagnavo al bar mi offriva il caffè lui prima lezione di scuola guida immettiti in retromarcia dentro una una statale praticamente va bene fatto di tutto io in scuola guida ho fatto delle guide talmente cioè che Milano arrivederci mi ha fatto guidare in situazioni talmente tanto terribili che minchia non mi è mai più capitato come la matematica no ma le disequazioni che mi servono nella vita è appunto uguale per la patente giusto per rimanere in ambito studio e scuola di qualche giorno fa con tutta la parte di teoria non è costosa te la cavi con pochissimo infatti non c'è un vero e proprio corso beh io so di gente invece che ha speso effettivamente dei soldi per fare il corso e tutto quanto cazzo non me lo dire mi hai ricordato anche che devo pagare della roba vabbè maudio di quello lo devono imparare tutti le partenze in salita sono la cosa più ostica che tutte le persone fanno però voi vi scordate sempre la vecchia macchina di mia mamma la vecchia macchina di mia mamma la golf che era stata modificata probabilmente da un ragazzino pazzo vecchia vecchia quella macchina lì aveva alcuni problemi aveva il minimo aveva il minimo che era molto alto quindi la macchina si spegneva se tu se tu non premevi la frizione in certe situazioni tipo in curva durante le rotonde la macchina di mia mamma si spegneva in corsa in curva ex macchina di mia mamma chiamiamola così quella bellissima golf non solo si spegneva in curva non solo si spegneva in curva ma aveva anche il blocco a sterzo si spegneva in curva col blocco a sterzo e tu durante la rotonda dovevi sfrizionare e riaccendere la macchina in corsa quella era quella roba roba seria così si impara a guidare cazzo quindi l'alternativa era fare le curve tenendo la frizione abbassata che non è esattamente la cosa più safe del mondo ma quantomeno faccio ricordo no non era così vecchia come macchina però aveva l'impianto a oddio metano o gpl no era gpl non mi ricordo e aveva l'assetto da corsa era una una golf ribassata con le gomme larghe era aveva trovato un'occasione l'aveva presa era bello perché era probabilmente la macchina di un ragazzino che se l'era tutta modificata però c'era il santino con padre pio appiccicato l'ha comprata così col santino di padre pio appiccicato padre pio e la madonna se non sbaglio c'erano entrambi giusto per non farsi mancare nulla appiccicati lì sul posacedere bellissimo bellissimo e quindi ha avuto un sacco di problemi elettrici la cosa più bella la cosa più bella è stata si è rotto il riscaldamento allora si è rotta praticamente un pezzo interno della macchina che regolava il riscaldamento e l'aria condizionata capitava spesso d'agosto in autostrada che questo pezzo si spostasse passando perché tu non funzionavano più i bottoni bisognava agire all'interno adesso vi spiego dove era questo luogo praticamente la macchina passava da aria condizionata a riscaldamento me lo ricordo ancora agosto andavo al liceo agosto non mi ricordo quando autostrada 30 gradi all'ombra quindi in autostrada non potevi neanche fermarti la macchina passa da freschetto si sta bene a il doppio del caldo perché c'era questo pezzo che semplicemente quando si sballottava un po' la macchina si spostava per modificare la temperatura tu dovevi inclinarti andare giù di macchina infilare la mano dietro com'è che si chiama allora c'è c'è lo sportello questo è lo sportello sotto praticamente davanti a dove c'è il cambio c'è il cambio e poi c'è la tutti i tasti dietro quindi dalla parte del passeggero infilare una mano dietro la plancia inclinarti no non il cruscotto il cruscotto in alto sotto no neanche la console è dall'altra parte dalla parte del passeggero devi inclinarti così infilare la mano alla cieca trovare questo pezzo e spostarlo finché non senti il cambio di temperatura e diciamo che imparare a guidare con quella macchina è stato proprio una bella prova posso guidare gli aerei non credo fosse molto sicuro beh perché il fatto che si spegnisse in curva invece yellow frag gatto finalmente si sabba grazie per tutto l'intrattenimento eeeh per l'intrattenimento e il lavoro che fai per noi sarebbe poco troppo chiede una benedizione per trovare casa nuova no tantissimi auguri so cosa significa auguroni eh è stato bello meno 16 ad anima no non me lo dite che piango piango ogni giorno di più eh tu che tiri la gonna più su vita vera vita assolutamente vera patente a vita che bello che bello e insomma quello è stato poi altre esperienze problematiche con la macchina sinceramente non ne ho avute anche perché sono sempre stato bravino a guidare ho imparato e poi dopo da lì è stata tutta discesa non è difficile imparare a guidare è è difficile imparare il timing della frizione certo però dopo un attimino che che fa un po' di pratica il classico parcheggio vuoto quello non non mi dà problemi che palle giusto sono mica morelli però l'unico incidente che ho fatto erano le due del mattino no forse prima strano che io fossi sveglio a quell'ora lì vabbè comunque era notte ma forse si era l'una o le due del mattino l'unica volta probabilmente che ero in giro a quell'ora lì strada deserta diluvio universale va bene mi fermo prima di una rotonda sai che c'è lo stop che non è lo stop è vabbè frena prima della rotonda io mi fermo per vedere se passa qualche stronzo mi fermo guardo nel momento in cui guardo c'è uno stronzo che non si è fermato dietro di me mi è entrato nel culo PEM la macchina ha fatto 4-5 metri e si è anche ristretta di 2 cm ha detto il meccanico l'autoradio era partita chissà dove poi lì sotto la pioggia fare il cid orca miseria dai che merda tranquillo no beh colpa mia è difficile che sia colpa mia non sono non sono uno che fa le grandi cazzate in macchina non so non è che uno che accelera fortissimo fa le sboronate sono abbastanza tranquillo grazie Davide ho una fabia e prima di sistemarla quando accendevo il terci vetro posteriore mi si abbassava il finestrino del guidatore ma è una feature bellissima le gioie quando pioveva vabbè il terci vetro posteriore lo usavi? io non lo uso non allora lo uso raramente il terci vetro posteriore sai lo lo attiva la macchina automatico quando faccio la retro però generalmente non ne ho così tanto bisogno ho quello davanti che si attiva automaticamente quello dietro proprio ogni tanto porca troia chi? porca troia come che macchina ho fatto il video ho una Jeep Renegade che non è mia ad essere proprio ad onor del vero non è mia è presa a noleggio a lungo termine per pagare soldi perché così mi si abbassano un pelo le tasse è tutto vero è così che si deve fare se hai la partita IVA è di Gabriel esatto è Gabriel che me la sta affittando le do i soldi a Gabriel e vi dirò di più il commercialista mi ha detto che costa troppo poco e che quindi si ci ritorno ma neanche così tanto orca troia prossima macchina il Bentley va bene? ecco a benzina benzina proprio che sgaso un'accelerata e voglio bruciare tutto il possibile fa il culo l'ambiente devo pagare la partita IVA allora scende o no sta cazzata ma è già giù ecco dove era il problema la Tesla mi ficca parecchio il problema della Tesla allora prima di tutto se prendo la Tesla voglio casa mia quindi prima compro casa poi valuto la Tesla perché ovviamente ci sono le colonnine anche qui in giro ma la cosa più comoda e più sensata è avere la colonnina in casa non posso andare a fare il pieno a un tot di chilometri ogni giorno quando ne ho bisogno è impensabile è impensabile metti che devo mettermi a fare un grande tragitto cose la colonnina te la devi far montare a casa che te la montano mi pare sia anche inclusa nel prezzo non vorrei dir cazzate va bene ho capito che fai il pieno gratis però cioè è comunque devi sempre pensare se devi farti un giro o quant'altro la Tesla mi ficca parecchio il vero difetto della Tesla è che guardando i bagagliai mi sa che si fetone non ci sta comodo si ci vuole anche mezz'ora le colonnine certo beh a casa ci vuole la notte per per riempirla tutta però vabbè eh Andre si te lo devi far fare devi fare il lavoro quindi le Tesla mi piacciono molto mi sta sul cazzo che non abbiano un'integrazione con CarPlay io ho preso la macchina soprattutto in base al collegamento col telefono perché mi piace avere il telefono collegato ascoltare la mia merda di musica la mia merda di musica la mia merda di podcast e tutto quanto la Tesla ha un sistema chiuso tutto suo e lei già mi sta sul cazzo sta cosa qua è un po' tutti i modelli Carpa sono tutte delle berline sostanzialmente ma anche le altre sono un po' meno ma sono comunque delle allora il Renegade l'ho preso soprattutto perché io ci sto bello comodo che è alto e si fettone in bagagliaio è felice come una Pasqua esatto Gabriel la Model X però hanno detto che fa schifo i Gale Bordons hanno detto che fa cacare la Model X iniziato non è 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 infatti io sono acculturato io sento Pierpaolo Greco che litiga con Pianesani vabbè comunque sempre parlando di macchine chi mi segue da tanto lo sa si ricorda i vecchi giorni gamer sempre parlando di quella bellissima Golf che l'autoradio ce l'aveva ma praticamente non leggeva i cd non funzionava io ve la ricordate la cassa della Bose la mia autoradio era una vecchia cassa della Bose di quelle orizzontali che era fighissima non le fanno più fate così tra l'altro incastrata tra parabrezza e cofano non cofano scusate tra parabrezza e come si chiama quella parte di plastica la plastica la parte plastica tra parabrezza e cruscotto bravi bravi incastrata lì collegata in bluetooth al telefono il link in descrizione no non c'è è morto quello a fare lì ve lo ricordate quello nei vecchi giorni gamer si vedeva e io era praticamente un autoradio autocostruita quella lì mi sono preso una cassa bluetooth e l'ho incastrata nella macchina che ci vuole il cybertruck mi piace un botto il problema del cybertruck è che non ha un posto dove mettere il sifettone c'è il cassone nel cassone non ce lo posso mettere il sifettone è una tortura non può stare nel cassone il sifettone e quindi niente però il cybertruck mi piace un botto poi dopo ci siamo evoluti e abbiamo preso le doppie casse mi è stata mi è stata regalata una cassa della mia signora l'altra l'ho comprata io ve le faccio vedere aspettate arrivo ecco queste queste le vendono ancora queste le vendono le trovate hanno la qualità inferiore rispetto alla supercassa che avevo all'epoca però vabbè sono un po' sozze perché le uso in doccia e in vasca perché sono completamente waterproof quindi ficcantissime c'hanno dietro l'allaccio qua l'allaccio vedi per di gomma qual'è la cosa figa di queste adesso ve lo do al link si connettono anche tra di loro quindi tu puoi fare un audio la canzone che esce da entrambe le parti oppure puoi fare lo stereo quindi se c'è la canzone che canta un po' a sinistra e un po' a destra c'ha lo stereo destra e sinistra e queste le mettevo invece ai bordi della macchina tra quella specie di finestrino di fianco al allo specchietto retrovisore non sono male queste adesso non so se ne abbiano fatto un modello nuovo mi pareva fossero anche non necessari allora è costoso perché Bose come sempre un attimo eh soundlink fammi vedere ostia allora costa costa tantissimo molto più di quanto mi ricordassi perché costa 100 euro sono soldi sono veramente soldi ve la linko aspettate magari qualche offerta però vedo che c'è la versione più figa credo ha la stessa cifra no non è vero non è la versione più fica non so c'è anche questa specie di cassettino poi vi linko anche l'altro non so quale sia più bello tra i due non ho idea costano uguale informatevi voi su quale sia più ficcante non ho idea sembra sembra più figo il secondo che vi linko però la gbl mi sono sempre trovato molto bene con la Bose per quanto riguarda l'audio mi sono sempre trovato molto bene Bose Sennheiser mi sono sempre piaciute un sacco poi lì va anche molto a gusti la Bose è più sui bassi dipende dal suono che cerchi bisognerebbe provarle le casse prima di sceglierle questo è molto importante sì lo so che ci sono altri marchi a prezzi più bassi però va molto al gusto personale per quanto mi riguarda torniamo qui dovremmo comprarcene due allora se vuoi l'audio in stereo sì se no te ne basta e avanza uno e nebbene cosa vuoi fare se vuoi avere l'impianto in macchina della madonna ne compri due beh ripeto uno a me è stato regalato io ho preso l'altro dopo un po' di tempo per togliermi questo sfizio perché comunque avevo in mente di comprarmelo ma uno basta e avanza io in doccia ne uso uno è che adesso ne abbiamo due quindi in doccia ne uso uno in vasca ne uso un altro la cosa figa è che come tutti gli altri prodotti Bose si collegano a due dispositivi contemporaneamente quindi è collegato sia all'iPad che all'iPhone e io posso decidere sto ascoltando la musica dall'iPhone bene adesso volevo guardarmi un film su Netflix faccio partire l'iPad e automaticamente mi esce l'audio dall'altra parte GBL Change 4 comprata in Croazia l'ho pagata 70 euro probabilmente tarocca ma spingi un botto ho finito? no non ho finito non dite le cose eh io per per quanto riguarda l'audio ho sempre speso un sacco di soldi perché vado vado matto per cuffie casse quelle cose lì io adoro queste cose mi piacciono un sacco quello e le telecamere le telecamere action cam adesso ho finito appena si toglie non ancora adesso è finito allora le QuietComfort sono buone ma io continuo a ripetere che la gente si dimentica delle mie Sennheiser porca vacca allora che sono vecchie ormai PixC eccole qua aspetta ve le linko sono vecchie porca miseria ma per me rimangono sempre oh no hanno fatto un modello nuovo? non lo so aspetta questo mi sa che è un modello nuovo non sono le mie infatti non mi dice che le ho acquistate non me lo dire hanno fatto un modello nuovo delle PixC? anche Alexa no eh sì allora io vi linko il mio modello questa no anche la cancellazione del rumore sono delle cuffie straordinarie straordinarie eccole qua questo che vi ho linkato è il mio modello comprate dov'è che era? il 9 luglio 2017 9 luglio 2017 sono ancora qui sono ancora qui cancellazione del rumore ottima fantastiche comode pratiche come vedete sono praticamente come nuove dal 9 luglio 2017 ok? basta tenerle bene le cose c'è la gente che tutt'oggi si lamenta dei cavi della Apple e i cavi della Apple si rompono facile non mi è mai mai successo che un cavo si rovinasse e che si sfilacciasse come le foto che vedo mai quindi non diciamo cazzate bisogna trattarle bene le cose soprattutto quelle costose cazzo le Sony ma sai che c'è gatto le Sony le ho viste le ho comparate le mie perché ci sono ci sono anche i siti che ti fanno il comparing e tutto quanto comunque non erano abbastanza ficcanti rispetto alle mie modello vecchio il modello nuovo invece eccole qua vi linko anche quello cazzo adesso non me ne faccio un cazzo c'ho anche le Airpods Pro che sono veramente fantastiche anche le Airpods Pro non le ho mai provate in aereo le Airpods Pro con le Sennheiser mai sentito niente neanche mai perfette una cancellazione del rumore e un audio straordinario perché devo passare di qua ah ok si che così torniamo anche indietro va bene no no queste sono non lo sapevo fossero uscite sono PCX 550 2 però che sono esteticamente sembrano identiche tra l'altro no non è vero si piegano in maniera stront no si piegano in entrambe le maniere minchia la cosa figa di queste cuffie qui non so se sono come le mie è che tu giri i padiglioni e si spengono non devi non ci sono tasti per accendere e spegnere di qui sono molto affamato quanta fame nel mondo grazie poi bisogna vedere anche da cosa fate per quanto mi riguarda vabbè le Airpods Pro sono di là io le Airpods Pro le uso principalmente per ascoltare podcast e audiolibri perché annullano completamente il rumore della strada sono ottime per la musica ma con la musica poi dopo ti iniziano a isolare troppo io non uso le l'eliminazione del rumore per strada perché lo trovo pericoloso gusto mio grazie ecco qualcosa per te per telefonate brevi tragitti e quant'altro le Airpods normali non pro sono comunque delle cuffie fantastiche per me sono veramente ottime le uso soprattutto per telefonare perché ti estraneo non meno di quelle in-ear io non vado matto per in-ear non mi piacciono proprio le Airpods sono una una bella eccezione ma in realtà non è vero non solo le Airpods tutte le nuove in-ear adesso non sono più il pallottolino tondo che ti si tappa all'orecchio ma è più ovale quindi devo sto rivalutando anche le in-ear in generale non solo per quanto riguarda le Airpods a partire da quelle Bose per dormire non so se vi ricordate che ci hanno ci hanno proprio una un'ergonomia differente poi comunque una volta infilate ti ovattano perché sono se non ti piace l'effetto ovattato lì ci puoi far poco e metto i soldi da parte cor mi schiaffeggio spesso le mani cerco di stare sempre attento infatti ogni volta che compro qualcosa è perché allora perché ci faccio un video e quindi c'è una giustificazione lì ma ok che è la mia passione però non sto comprando voi non avete idea di quanto mi sono morso le mani con con l'ultima telecamera della della 360 della insta 360 l'avete vista l'ultima telecamera della insta la faccio vedere al volo aspetta salvo la partita che non si sa mai salva ecco qua aspettate allora non mi attira particolarmente come telecamera e questo diciamo che ha aiutato ma mi sarebbe piaciuto un botto provarla l'ultima seconda se vi faccio vedere eccola qua fortunatamente non mi ha attirato particolarmente quindi sono riuscito a tenermi le mani in tasca poi sempre le musiche pompate che ti attirano sempre questa è una telecamera modulare non mi fa impazzire soprattutto questo il modulare non farei mai cose del genere cioè capisci tu puoi avere la super lente che fa vedere da dio è figo perché tu hai una telecamera normale e in più una telecamera 360 wiki il colgato e fa tutte queste cose pericolose certo guarda qua è che devi fare anche queste cose qui per per giustificare una telecamera del genere o questo mangio per i prossimi tre mesi effettivamente c'è l'audio di sottofondo che potrebbe mutarmi la live non ce l'avevo pensato vabbè vabbè chi se ne frega le pubblicità sono tutte sempre fighissime a livello di dettaglio in realtà se tu vai a vedere qualitativamente è comunque inferiore alla mia gopro grazie tirami su siamo a 20 grazie mille è molto figo che mantiene il focus ma quasi tutte le anzi praticamente tutte le 360 Gabriel lo fanno quel lavoro lì è una feature che vabbè il problema della 360 è che hanno una qualità che per me è inguardabile per me questo è una merda non mi interessa che si gira ed è figo qualità del cazzo io preferisco una gran qualità video però diciamo me la sarei provata molto volentieri però figa spendere adesso non mi ricordo 300 e pass 300-400 euro più la lente figa no non vale la pena ok la passione la voglia di provare tutto però infatti la gopro l'ho presa perché c'è voi crediti di Amazon se no arrivederci 500 costa orcatrò è veramente ma sul serio ma no magari è un errore aspetta che metto tra i preferiti le nuove Sennheiser nel lungo la lista dei seri così mi dedico insta 360 non mi ricordo più come si chiama dov'è che devo andare di qui dritto ma no costa 3,40 costa aspetta ah no hai ragione costa 3,40 solo con la lente 4k quindi ti manca la lente figa e la lente 3,60 minchia si diciamo che la spesa inizia a diventare un po' importante si si cicato si moltissimo è molto molto meglio ma infatti avevo mollato anche io gopro per vari motivi questa gopro qui sono pienamente soddisfatto che essa wolfgrum per i 34 mesi guarda quante belle mele abbiamo per raccogliere l'airotto eh non lo so quanto costa credo 400 non vorrei di cazzare però che essa ferrica per i 30 mesi uso l'airotto ok ecco qua oh santo cielo ma perché questa cosa qua perché mi sono incastrato aiuto fortuna che siamo il quarto okage mi ha dato il lavoro e mi ha appena raccontato raccomandato di non rubare le biciclette tu non lo fare così è contento sono anche perché ho letto questo messaggio ma vabbè le mele allora io mi fido poco di quelle economiche perché sì ti dicono risoluzione 4k che è risoluzione 4k ma io me la ricordo ancora oggi la telecamerina figa all'epoca io avevo la gopro hero 3 ok ve la ricordate la hero 3 perfetto siamo andati a gardaland e mi è arrivato moro facendo il fenomeno con sta cazzo di telecamera che aveva risoluzione maggiore super figa pagata un cazzo pagata assolutamente niente va bene adesso non mi ricordo che telecamera fosse fosse qualcosa della xiaomi sì possibile fosse una della xiaomi era quella che era giallo lime cioè quel giallo sporco e verde e ha fatto il fenomeno ho detto vabbè allora ho dovuto usare alcune sue clip perché io me l'ero dimenticato si era scaricata perché la gopro si scaricava con la velocità della luce ok la yi la xiaomi yi 4k lei ok che era uscita dopo la mia più ficcante costava un caro ok perfetto vi ho fatto fare delle clip adesso non mi ricordo se le usate poi nel journey la qualità era una merda ma è una merda altro che era abissale la differenza ok risoluzione è tutto ma si vede tantissimo la differenza tantissimo wolfgram meno due mesi al matrimonio uuuu uuuu squiquera tanti auguri non ancora però tra due mesi no lui aveva quella 4k adesso non mi ricordo se il colore mi pareva fosse quello però mi ricordo che era 4k e tutto quanto di norma più paghi più la qualità alta fino a un certo punto è vero fino a un certo punto perché sicuramente GoPro ci mette il suo rincaro di nome questo è innegabile ma come tutti come tutti i marchi di questo tipo però di solito la differenza si vede tra una cinesata o comunque qualcosa di un certo brand piuttosto che di un altro non è vero se subiterete della GoPro e quindi fa cagare appunto mi sono sfoccato per un attimo mi sono iniziato a preoccuparmi si spesso paghi molto più la marca che la qualità però è anche vero che allora per quanto riguarda certi marchi ti fanno pagare di più però effettivamente ti danno qualcosa di livello superiore banalmente perché sono tornato in GoPro non perché la mia la mia altra telecamera fa schifo però cazzo la vedi la differenza quella che usavo prima non era una cinesata ma Osmo Action eccola qui fantastica bellissima doppio doppia come si chiama doppia doppio schermetto un po' scomodo cambiare da uno schermo all'altro ok ma comunque la qualità della GoPro è più alta pochi cazzi fine ed è più versatile guio non ho detto che si vede che è inguardabile è la differenza poi ovvio se a te non interessa chissà che cosa va bene io per me è il mio lavoro è la mia passione quindi vado sempre a cercare la qualità superiore ma l'ho sempre fatto in live nei video sempre cercato di portare la massima qualità possibile visiva e audio ovviamente per un rapporto di prezzo sì però secondo me è anche da stronzi dire va bene uguale capisci non è anzi no va bene uguale ma dire è la stessa cosa ecco quello sì un sacco di gente ti hanno fregato hai speso 200 euro di più no non è vero non è vero la qualità c'è si vede la differenza è innegabile ecco adesso l'ho spiegata meglio ogni volta per qualunque cosa ma la stessa cosa per i cellulari cioè prendete sempre parlando sempre di amici miei Mark io colpì 10 light mi sono trovato da dio l'ha mandato due volte in assistenza non mi è mai capitato di fare la stessa cosa con l'iPhone poi avrò culo io però neanche nella mia famiglia abbiamo usato iPhone per una vita non abbiamo mai avuto bisogno di portarli in assistenza tutti quelli che conoscono invece che hanno telefoni di fascia molto più bassa hanno avuto comunque prima o poi il problema di doverlo rimandare questo non va quello non funziona e quant'altro il bitrate è importantissimo ciccioca assolutamente sì eh sì Bigfoot certo vedo che Gabriel che è già che mugula però banalmente tra i miei amici l'unico che non ha mai avuto problemi problemi veri col telefono sono io poi ho avuto culo anche io ho avuto problemi con Huawei non ci torno più a questo marchio e vedi ma un sacco di gente lo dice ma anche la gente che ha il Samsung e il Galaxy non ha mai avuto di questi problemi eh no 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 non stavo ragazzi non è una discussione Apple versus Android stavo parlando di fascia medio bassa di telefoni che forse ti conviene spendere di più per un telefono che ti dura tot anni piuttosto che ogni anno cambiarlo capito tranquilli non era non era Apple meglio di Android assolutamente stavo parlando semplicemente di marchi e componentistica e infatti parlano molto bene del One Plus parlano molto 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 bene del One Plus allora 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 non era assolutamente una gara a chi ce l'ha più grosso assolutamente no ci mancherebbe ci manca solo quello ok partiamo dal cigatto la prende piano partiamo dal presupposto che la fascia bassa del mondo Android è merda sì ho visto un sacco di video tra l'altro anche che parlavano di tablet cazzo se escono delle cose veramente inguardabili ok sì non avrei dovuto fare tutte quelle mele non ho più niente da mangiare vabbè mangiorò le uova di Oco vado a piedi che così perdiamo il solito tempo dov'è il mercato dov'è il mercato ha chiuso il mercato agricolo ah no eccolo qua oh che paura che paura sì absel però è uno spreco preferisco venderla OnePlus molto duraturo nel tempo sì perché appunto quello che ci metto da dentro però il OnePlus non te lo fanno pagare 200 euro capisci era quello il discorso Xiaomi Away che la fascia bassa è merda ormai con 200 euro ti porto a casa un telefono più che rispettabile allora oggigiorno non ti so dire effettivamente ammetto la mia ignoranza nel mondo attuale dei telefoni di fascia bassa perché tutti i miei amici alla fine hanno iniziato ad andare in medio alto non ho più amici che hanno puntato sul sul medio basso per i motivi per i motivi che spiegavo prima per i problemi che hanno avuto OnePlus ora ha prezzi alti sì però ti dà anche un prodotto di qualità ma cosa c'entra Apple Quaglio perdonami non c'entra tu stai facendo Quaglio tu hai sbagliato completamente il discorso stai facendo un discorso software qui si sta parlando puramente di hardware di hardware e di problemi di telefono non si sta parlando Apple vs Android lasciate perdere lasciate assolutamente perdere è più o meno Davide non è allora è importante come si tratta un telefono assolutamente sì però lì c'era gente che lo trattava comunque coi guanti ma ha avuto dei problemi grossi allora ciao ciao adesso non approfittatele per fare una gara a cosa a è meglio questo marchio o quello no qui si sta parlando di fasce ok di telefoni di qualunque tipo Android Apple non è importante proviamo ad andare a parlare con le ragazze e Xiaomi ripeto per esperienza non mia ma di altri per me è sempre stata merda sembra che eri diti davvero molto dai riprendiamoci però ancora non si passa a livello successivo uuuu regalo regalo posso farle il regalo a Sally però è il momento di scegliere Sally o chi non c'è nessun altro in realtà ci siamo io spendo un sacco di soldi per prendere un telefono di fascia alta che mi dure anni però avendo tanto per tanto tempo ogni tanto mi danno problemi mi gira anche il doppio il cazzo perché l'ho pagato tanto tu soprattutto ora non hai problemi perché no no allora io non conto più io non conto più perché per via della partita IVA cambio un telefono all'anno io mi chiamo completamente fuori da questo discorso però tutti i telefoni che ho avuto prima partendo dall'iPhone 4 non mi hanno mai dato problemi quando sono passato ad iPhone le fasce molto basse sono inaffidabili dice Gabriel potrebbe andare bene come molto male dal medio bassa in su non sono così tanto diversi ok io ovviamente mi chiamo fuori da queste cose e erano altri anni beh assolutamente sì però da quando ho preso l'iPhone non ho mai avuto problemi poi grazie al cazzo che cambiare un telefono all'anno eviti anche molti dei tuoi problemi sociologo per rientrare nella partita IVA e ricompro sempre lo stesso tra l'altro vabbè dai Sally sei la prescelta ho portato questo per te che le do? no parliamo dopo dai scusa ci portiamo a casa la Sally e via ciao per abbandono ecco ho portato questo per te ma posso farmi dare la salsiccia? perché ho lì il suo inventario? lo splendido fiore è proveniente dal tuo giardino secondo me secondo me si fa colpo col fiore coltivato da noi grazie molto gentile ciao felici non posso più sei così bella ma grazie non posso più ci vediamo domani Sally si eviti un sacco di problemi per quanto riguarda l'usura del telefono ovvio io per sicurezza comunque ci andrei giù anche con qualcun altro è vero anche che io sto particolarmente attento al telefono non mi è mai caduto non non ci faccio mai cose che rischiano di ledere infatti i miei telefoni anche quando li uso più di un anno fino all'anno scorso praticamente erano come tirati fuori dalla scatola l'unica cosa usurata era un po' la batteria sto anche molto attento a non fargli fare dei cicli di ricarica sbagliati quelle cose ciao ciao sei sei molto ciao ciao ecco ma grazie sei molto gentile ok allora eh ecco c'è qui trasporta però non c'è una fermata dell'autobus lì vabbè andiamo a piedi perché così buttiamo via tempo che è sempre la cosa migliore da fare in questo gioco abbiamo capito eh li riciclo altalets li do ai membri della mia famiglia sarebbe bello avere la cantinetta la galeazzi un ciclo di ricarica sbagliato è quando eh utilizzi il il telefono mentre lo stai caricando e non dico guardare due robine ma tu stai un'ora col telefono attaccato alla corrente e lo stai usando non è come un computer portatile che una volta che arriva in carica no anche anche il telefono mi sa che lo fa spiego hai il telefono scarico lo attacchi alla corrente devi aspettare che si ricarichi non ti devi mettere a cincionare mentre si sta ricaricando quello fa male alla batteria ciao una volta che carico del tutto se lo usi mi sa che non è così grave dovrebbe fare come i portatili quindi bypassa la batteria e va solamente a corrente però adesso non mi ricordo comunque è una bella regola è non posso aspetta perfetto vado a prendere il pacco una bella regola è non utilizzare e soprattutto non far fare cose pesanti al telefono mentre è sotto carica ad esempio orca miseria no questa cosa qui la dobbiamo sistemare devo tirarla fuori da qua ad esempio lo dico appunto per esperienza fare una live con streamlabs da telefono mentre in ricarica fa molto male alla batteria fa molto male alla batteria dipende se la corrente è sufficiente dipende da quello che gli fai fare dipende da quello che gli fai fare in generale è meglio lasciare caricare il telefono una volta che hai carico usarlo no non è vero non caricarlo tutta la notte puoi caricarlo tutta la notte perché le batterie di adesso una volta che sono arrivato in carica sono lì non continuano a caricare all'infinito non hanno la memoria non sono più le batterie di una volta che avevano il problema della memoria sì poi dopo mentre lo tieni in carica e gli fai fare cose pesanti si riscalda quindi c'è un altro dispendio di energia insomma non è non è bene ma la musica non pesa un cazzo sul telefono esattamente millenium guardare i video non è pesante giocarci pesante sì ciccio a livello di utilizzo di hardware è sicuramente più pesante guardare i video scusami giocarci che guardare i video però è anche vero che se tu hai il telefono che ha una certa un certo schermo la la luminosità accesa mentre guardi i video di per sé il telefono non è che consuma per farti vedere il video però c'hai lo schermo acceso l'audio che esce tutto quanto hai comunque un dispegno di energia mentre lo stai ricaricando quindi sarebbe il caso di non utilizzarlo per guardare i video poi vabbè se lo fai una volta non è grave però prendere la cattiva abitudine di utilizzare il telefono mentre è in carica non vi ammazza il telefono la batteria quanto meno che andava bene fino a no fino a dieci anni fa quando la batteria la potevi cambiare già adesso non lo puoi più fare no no assolutamente ciccio che diventa distruttivo nel momento in cui diventa una cosa ma perché non mi mette le cose nella mappa guardate ok quale mi conviene andare qua sai Ryuk che ci stavo pensando fieno per le mucche beh ne abbiamo ancora un botto però con un solo ciclo di raccolta abbiamo risolto tutti i problemi del cibo delle nostre mucche per un mese caricate sempre sotto il 40% e staccate sempre sopra l'80 cariche intermedie confondono le batterie no non dovrebbe esserci quello lì non è sempre attorno al discorso della memoria tra l'altro l'iPhone questo me ne sono accorto per puro caso immagino che anche altri telefoni lo facciano io me ne sono accorto per caso non sapevo di questa feature io lo metto in carica la notte cioè vado a letto poggio il telefono sul caricatore wireless e lui lo ricarica lui praticamente mi ha detto che lui ha capito più o meno i miei utilizzi e carica il telefono solo in certi momenti per non far affaticare la batteria adesso non mi ricordo di preciso come funzionava la cosa il telefono proprio mi ha detto io adesso mi ricarico dalle 5 alle 6 del mattino una roba del genere mi pareva grazie a Roby perché grazie ecco il pacco ecco il pacchetto che hai richiesto pacchetto grazie a posto consegna pomodoro non ne ho riparo uno degli edifici ma sai che quasi quasi mi sparo anche questo nei denti e ci vado a piedi dobbiamo perdere il più tempo possibile che così possiamo lasagnare il prima possibile uno deve comprare il telefono nuovo solo per l'usore della batteria no però non è così semplice fare il cambio di batteria oggi non so quanto costi non saprei neanche come si fa a fargli fare il cambio di batteria e non so neanche quanto ti convenga poi a livello monetario effettivamente non ho mai più cambiato una batteria da da un sacco da un Nokia che non cambia una batteria a un telefono quindi figurati costa oltre i 200 euro madonna tra i 20 e i 30 se te lo fai a casa però invalidi la garanzia così giusto? no infatti le batterie non sono più quelle degli anni 90 siamo d'accordo è per quello che non ho mai sentito la necessità di qualcuno che dice se è morta la batteria se non di un telefono veramente molto vecchio con tanti di assistenza lo fanno loro una batteria può costare dai 50 ai 200 euro minchia si se ti sparano 200 euro forse si ti conviene cambiare il telefono bisogna smontare il vetro dietro della fotocamera eh si c'è vi ricordate quando ho avuto i problemi vabbè è un altro dispositivo ma ho avuto i problemi col MacBook gliel'ho portato avevo le batterie gonfie perché io ogni tanto apro la parte dietro del del Mac lo pulisco gli tolgo tutta la polvere gli faccio manutenzione non lo fa nessuno io lo faccio perché non voglio avere problemi infatti ci sto dietro ehm visto che tengo le mie cose non si invadi dalla garanzia facendo quello l'ultima volta l'ho aperto e c'erano le batterie che sai erano gonfie ma gonfie gonfie e ho detto sapendo cosa fanno le batterie che si aprono o si lacerano ho detto magari non succede però vaffanculo vi ricordo che una batteria se si lacera il componente chimico all'interno della batteria a contatto con l'aria prende fuoco ma fa proprio tipo fiamma ossidrica no esplodere esplodere no cioè per esplodere devono cioè proprio gonfiarsi all'inverosimile fanno tipo fiamma ossidrica le batterie grazie a Don Cunzo per i 40 mesi eccomi qua ciao ciao quindi batteria al litio fanno sfiammeggiano fa effetto termite bravissimo l'ho portato subito al coso ora per risparmiare sulla dimensione cioè risparmiare per rendere sempre più fini dispositivi a me non hanno cambiato le batterie del Mac hanno cambiato tutto a parte lo schermo cioè il corpo del Mac me l'hanno lasciato la touchbar mi pare l'abbiano lasciato tutto il resto hanno sostituito l'hard disk cioè nel senso me l'hanno rimesso il mio tutto il resto tutto il corpo era saldato assieme per risparmiare spazio e me l'hanno me l'hanno cambiato praticamente tutto ci ha messo una settimana ci ha messo fair due mesi grazie gatto per questa mattinata e a lei grazie mille per dire poi per carità non ho pagato una lira perché era in garanzia ma immagino che questo processo nel caso tu lo voglia fare ciao per cambiare la batteria basta costa costa i soldi farlo fare è terribile come impatto cosa Gabriel non ho capito ambientale dici che si butta via tutto beh allora non credo che abbiano buttato via tutto credo che a loro a loro per motivi di tempistica facciano prima facciano prima a fare così a te poi dopo minuziosamente si si come si perché parla sta signora si staccano i vari pezzi credo che loro a te utente facciano prima a far così a loro poi dopo riciclano fanno cose credo non lo so grazie a lori per gli otto mesi poi vengono riutilizzati per fare i mac ricondizionati si infatti è per quello che probabilmente la batteria era saldata e non aveva senso andarla lì a staccare l'hanno staccata dopo e ci hanno lavorato su dopo però lì per lì per farti per metterci poco e non ci hanno comunque messo poco hanno fatto una sostituzione generale di tutto perché è tutto attaccato nel mio pc l'ho cambiata la batteria è stato facilissimo la batteria mi è costata circa 40 euro ma anche i miei vecchi portatile era così anche con i vecchi mac era così non è mai stato un problema il problema è adesso perché adesso si sta facendo la gara che fa la cazzata più fine ovviamente il macbook è finissimo anche il pro però devi sacrificare quello e soprattutto non puoi più fare neanche l'upgrade dell'hard disk dell'ssd poi dopo che quella sia un'inculata di marketing siamo d'accordo tutti però è per rendere il computer sempre più fine grazie a Dalian per i suoi 12 mesi e a che dice guar giorno o gattono sono 12 efficanze grazie grazie anche a Filippo per i 36 ma è partito l'hyp train scusate è che dobbiamo andare avanti qua a lasagnare però grazie è sempre un bel momento l'hyp train grazie a Peri al tubo che regala la sabba pilla di saggezza voi potete continuare a rinnovare il treno non è finito semplicemente è ancora in corsa poi se c'è un altro momento particolare ci ritorniamo grazie a Axel per i 200 bits zio condi rinnovo dopo un bel po' di essenza mi perdoni migliore role si vuole bene a lei a lei grazie come sempre in ritardo live 3 non è mai in ritardo potrebbe cambiare in meglio grazie The Real Revolution per la sub che cazzo qui ok e Kenning che regala la sub a Nitro Cube grazie mille il treno è sempre il treno confermo oh scusate scusate sempre per il discorso che mi piace giocare i giochi anche senza farveli vedere Wackstep 14 mesi vogliamo un bis dopo dopo oh se raggiungiamo eh che cazzo se raggiungiamo il livello 5 lo faccio ripartire promesso ok di qua ale perfetto ops sbagliato sono andato di retro ha mal di testa atroce lui chi se ne frega è quello che ci dicono chi chi ce lo dice non sono proprio dell'umore grazie ecco qualcosa per te vi ricordo che l'hyp train comunque è ancora in corso rinnovate 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 ficcatevi consegna pomodoro no che no torniamo a casa e facciamo già una bella dormita aspetta vediamo se abbiamo del miele no quanto 17 settembre le rose hai ragione andiamo a vedere se sono da inumidire le impaccature devo tagliare l'erba azra 100 bytes buongiorno gattone ne approfitto per chiedere la benedizione per il colloquio di domani della mia ragazza che la segue costantemente ma è troppo timida per chiedere buona farmata a lei grazie mille tanti auguri alla sua signora tutto molto umido non ho capito tombino la domanda a livello di sub la hype train è una buona idea che vuol dire cioè farti la sub durante la hype train è una buona idea beh è sempre una buona idea farsi la sub ah ne fai di più boh allora il primo giorno si però in realtà è una bella scusa per far rinnovare per me è una bella è un momento sempre bello e divertente la hype train infatti mi sono inventato anche quella cazzata perché a me diverte parecchio è una bella scusa per ricordare la gente di rinnovare poi dopo c'è anche qualcuno di nuovo che si subba preso dal momento assolutamente si però principalmente è un ricordare però più divertente e voi vi ricordate cioè io devo sempre ricordare a voce soprattutto a quelli del prime rinnovate rinnovate ed è una rottura di coglioni cioè è brutto non tanto una rottura di coglioni per me dirvelo ma per voi sentirmi dire eh rinnovate rinnovate è brutto con la hype train si va a creare questo momento scemo e tutti si ricordano di rinnovare e si divertono a me è risollevato la giornata ah scusami è tutto il resto della live sono in live da due ore quello quello te l'ho risollevato ma forca miseria dodo ogni tanto si ritorna ciao gatto ciao come ha detto il buon Rikishimaru ha inventato la cosa del treno ma non un intervallo per un minuto per la pisciata in realtà il treno l'ho creato mentre mentre vedevo il menu di pausa di Rikishimaru ieri mi ha dato lui l'idea quello della pisciata in realtà ci sto pensando da un sacco di tempo solo che mi distraggo perennemente e mi metto a fare altre cose tipo quella del treno e io sono così purtroppo ieri dovevo fare gli alert di Animal Crossing e ho fatto il treno perché sono stupido ho il deficit dell'attenzione alle stelle io appena vedo ahhh ahhh e perdo un sacco di tempo sulle cazzate tantissimo però quanto mi diverto poi cioè voglio dire qui qua vedrete vedrete nei prossimi giorni perché ho anche speso dei soldi ieri ma quella è un'altra idea che è sempre stata colpa di Rikishimaru ma più in diretta stavolta per quanto riguarda quello della pisciata la Roby abbiamo finito Live Train grazie a tutti grazie a Validuc che regala la sabba Dottor Manhattan V ecco c'è un peperoncino da raccogliere va bene stavo dicendo ah si ah ok è cresciuto tutta questa roba qua perfetto quello della pisciata si ce l'ho in mente da un po' però mi piacerebbe fare un video vi ricordate i video di anteprima quelli che mettevo nel pre-live ecco mi piacerebbe fare una cosa simile ma per quando vado in bagno oppure quando arrivo un corriere e più carino ci sono io io in green screen che dico ciao in questo momento non ci sono perché sto facendo la cacca una cosa del genere mi piacerebbe fare quindi è per quello che non perché mi serve la luce registrare fare un po' un orto di coglioni ma lo farò promesso arriverà arriverà fatto 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 vedo che siamo a posto buono da raccogliere non è mai vero fammi vedere se umido ok grazie a turbo per la sub non ci sarà più il momento sedia e mi piaceva l'idea anche di includere la sedia adesso ci vorrà un po' di mi devo inventare qualcosa voglio fare qualcosa di bello c'è un caso guarda sempre il kishimaru che le idee arrivano sì però non ho la ieri ho passato tutto il giorno a lavorare poi mi sono messo a fare l'hyptrain ma questi cinghiali che cazzo è sempre bello fare ste cazzate consegna pomodoro non ne ho trasporta sì poi consegna zucca piccante ma che tui coglioni sempre sono le cazzate ok ma adesso posso andarci una volta al giorno a regalare le cose alle signorine ma questi cinghiali cosa passa loro per la testa quanto quanto stanchissimo lui ciao ehi ciao lui non ha la mano davanti alla bocca ha una voglia di zucca no ho sbagliato ha una voglia di zucca ma no ho sbagliato persona ah di qua di qua abbiamo la nostra Sally che ormai è ingolositissima guarda qua è qui che ha occhi solo per noi ah come si si rinfresca Sally però cazzo cagami Sally hai voglia di buongior ecco ho portato questo per te ah sì mi ricordo grazie al cactus per i sei mesi un tulipano che dolce sei davvero un tesoro ciao buongior sei così bella che sei molto bom ryan non ora scusa non ora scusa torna più tardi torna più tardi grazie al cactus fa sempre dire ciao buongiorno buongiorno sto sì avrei mister stiamo tradendo luna ma chi se ne frega chi la conosce poi la guida dice che in base al regalo ti dà più o meno punti potresti dargli l'anello e probabilmente è fatta di già così saltiamo le ostia io sono nato di qua ma non so sicuro che fosse qui il pacchetto va bene che è sempre qua cioè l'uomo che spaccia è qui che vive infatti è vero nipicù però fa un culo fa un culo luna più che altro adesso basta dormire non bisogna più perdere tempo come abbiamo fatto proviamoci drag traffic simulator veramente sono qui per il pacchetto certo la contadina super seduzione un attimo beh non abbiamo mai nascosto le nostre doti ciao Gabriel buona giornata stasera grazie allora proviamo ad andare a dormire proviamo a fare il tatticazzo per 200 euro non ne vale la pena cosa di che parliamo fare lo spacciatore ah beh non ne ho idea parliamo di che sono 200 euro al giorno per adesso tutti i giorni ci hanno dato qualcosa da spacciare e 200 euro ci sono sempre partiti cioè ci sono sempre arrivati oh no non dimmi che non c'è allora eccola lì fai conto che ti arriva l'fbi a casa e ho capito è un gioco tra l'altro ho visto anche il simulatore di coltivazione di cannabis quello prossimamente il fascio ciao ovviamente io massimo esperto di certe robe ecco vado di anello allora che dolce sei davvero un tesoro l'anello vecchio della nonna morta non ha battuto il ciglio va bene ok era d'argento non della nonna no no era della nonna perché era nel nascosto in soffitta no non è vero questo l'abbiamo trovato a qualche parte quello della nonna mi sa che è ancora in soffitta nascosto mi ha raccolto solo la birra del nonno grazie a Dayden per i 21 mesi grazie mille e Malta Zard per i suoi 10 mesi grazie no si pronuncia I'm a god no tessaro ale ah si mi ricordo sì sì c'è anche il dito attaccato all'anello della nonna ovviamente ma guardate che l'anello della nonna è identico a quello che le abbiamo dato è una replica autografata probabilmente dalla nonna se tu ficare vorrai l'anello della nonna cercare dovrai sarà stato quello del nonno con il topazio un po' strano prima l'anello poi la birra vecchia di 50 anni no quella ce la siamo già bevuta tutta noi ma di sei troppo generico millennium di che parliamo queste domande a caso cos'hai mangiato a pranzo mercoledì fa chi un anello per trovarle un anello per ghermirle e nel buio lasagnarle mi piace lo riscriviamo il signore dei vitelli ecco qua vado su in soffitta e l'anello d'argento costoso regalo perfetto per una donna vedi era identico a quello che c'era che abbiamo dato è difficile che questo qui sia adesso la soffitta possiamo anche chiuderla mercoledì fa mi è uscito male eh sì volevo controllare qui tutto molto umido ho un secondo scopo con questo gioco appena riesci a lasagnare tira fuori una lasagna da mangiare sarebbe beh allora parte il fatto che ho scaricato una nuova applicazione di cucina che mi fica più delle altre si chiama Kitchen Stories ve la faccio vedere al volo Kitchen Stories ecco qua che c'ha i video però di video mi interessa in realtà poco e gli ingredienti con tanto di lista per la spesa che ti puoi fare vabbè le calorie chi se ne frega e poi la guida pasto pasto vedi inizia a cucinare vedi sbatti l'uovo dov'è qua è gratis sapete perché la sto apprezzando particolarmente perché è gratis ma io probabilmente donerò adesso proverò qualche ricetta perché allora tutte le applicazioni di ricette aspetta ho fatto tutto si tutte le applicazioni di ricette ti fanno pagare qualcosa oppure sono comunque ricette che della gente tipo forum non forum paravapapa no paravapapa non è grazie a Cascia per i 24 mesi grazie di tutto signor Gato finalmente due anni insieme continui così con i suoi video sono sempre più belli grazie mille avevo appena dormito doppia doppia dormita e cioè perché devo pagare poi per avere delle ricette degli utenti si chiama kitchen stories questa qua è gratis e la cosa più bella che ho apprezzato di più è che non ci sono feature a pagamento tipo la lista della spesa la paghi no è gratuita tu puoi pagare ma cos'è che puoi pagare donaci un caffè cioè o donaci un pranzo tu puoi fare tipo una donazione puoi regalare dei soldi agli sviluppatori e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo e che mi invoglierà sicuramente a dargli anche dei soldi poi la devo provare vedere le ricette e tutto quanto com'è ma se un'applicazione funziona è bella merita volentieri volentierissimo poi io ho sbirciato ieri perché ieri mi sono messo a guardare Ratatouille e cazzo mi è venuta fame e voglia di fare da mangiare e ho detto vabbè ma cerco ne avevo anche avevo anche l'applicazione piccole ricette se non sbaglio però non era particolarmente ficcante come applicazione poi i libri di cucina cazzo cosa faccio mi metto con un libro di cucina nel 2020 e allora a quel punto mi metto a cucinare in mezzo alla boscaglia con i sassi cioè dai veramente vado a prendere le ricette dipinte sui muri santo cielo esagerato no per me i libri ormai i libri su carta per me sono offline non mi metterei mai più a stare lì con un libro aperto perché stai risparmiando soldi Joseph il libro di Bressanini ma se c'è in digitale lo compro in digitale non voglio fisico niente più poi non so se ci siano i libri dei grandi chef dovrei guardare magari ci sono i libri dei grandi chef in digitale una roba carina potrebbe essere scomoda perché un'app è sempre un'app perché la puoi gestire in un'altra maniera rispetto a un libro però potrebbe essere interessante anche quello soprattutto in cucina che un tablet un libro da sfogliare cazzo dai non c'è storia le oche hanno cacato uovi no mai arare il campo arare il campo ma noi adesso trasporta ok no noi adesso ci puntiamo tutto mettiamo l'acceleratore sulla lasagna sì una volta sposati ci mettiamo al lavoro perché poi dopo dobbiamo fare il figlio no per me tutto è book tutto è book ecco Sally Sally beccati l'altro anello quello del nonno o della nonna non si sa facciamo pure lo smalto dai mi fa pi sei mi fa davvero non fa più effetto il complimento ciao buongiorno ecco thank you chi è? Wackstep un'adorazione modesta per uno svilopatore di grandi live oh grazie grazie molto gentile no stiamo andando avanti però con la lasagna ciao buongiorno mi fa davvero bisogna puntare più su devo andare ad acquistare qualcosa di più costoso forse dite che vale di più cioccolato un altro cioè le ho dato già due anelli di coso come si chiama di d'argento della mucina è lì la conquisto facile in questo periodo ma il cioccolatino di 200 euro mi sembra un po' una barbonata le regalo il drone da 5.000 kitchen stories si chiama l'app ma l'ho scoperto proprio per puro caso non so se sia più o meno ficato che piacere vederti l'ho sfogliato adesso non basatevi su su questa mia scoperta come se fosse il graal cioè l'ho scoperta ieri per puro caso cercando qualcosa che facesse quello non non mi impazzite per favore non lo sappiamo ancora 167 euro di cioccolatini anello d'oro cazzo 200 euro l'argento eh allora prendo un flacone di profumo e un anello d'oro due ne ha presi i anelli d'oro ma io ne volevo uno e niente adesso ne abbiamo due va bene meglio meglio facciamo cernita come corre si io l'ho sfogliata da telefono quindi neanche da da tablet in divano mentre guardavo Ratatouille quindi la mia attenzione non era lì sembrava interessante e me la son tenuta ve l'ho notificata perché mi è piaciuto molto l'idea che fosse completamente gratuita e tramite questo sistema di donazioni per gli sviluppatori poi da lì a dire che è la cosa migliore del mondo con calma proveremo qualcosa e da qui aspetta vediamo se ci sono le lasagne perché ho voglia di farle eh vediamo eh basta ma che c'è anche roba oh carino guarda che c'è proprio un menù lasagne e ragù primo risultato oh fammi vedere ma mi fa fare anche il ragù spicchio d'aglio cipolla carote ti fa fare anche il ragù sì la me la salvo me la salvo e mi metto anche la lista della spesa sì 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 ah la lista della spesa però è singola vabbè dal dopo mi informo meglio il ragù e besciamella vabbè ovvio vendo una besciamella già fatta non lo sapevo beh immagino di sì beh ragù volendo uno potrebbe anche comprarselo un po' così però volendo uno se lo può anche comprare tipo panna chef ah non lo sapevo kitchen stories si chiama ragazzi ovvio che è meglio quella fatta in casa però grazie anche masotti francesco per la sub ad esempio abbiamo già raccolto oggi sì ah vero sono tornato a casa dormiamo raccogliamo e poi rilasagniamo ok mi sono fermato a cercare le lasagne però ad esempio il pomodoro non me lo farò in casa da solo perché per me è troppo mettermi lì a fare tutto il pomodoro quindi non userò quello di mia mamma perché dovrei andare fino a Padova e visto che c'ho voglia oggi magari non oggi ma domani sicuramente neanche domani dove devo andare al commercialista non lo so stasettimana le lasagne me le faccio grazie Chris per i 20 mesi quindi il pomodoro farò sicuramente quello comprato e butterò il pomodoro comprato dentro al ragù che mi faccio no ma tutto il resto non è un problema è il pomodoro che è una rotura di cazzo anche il ragù è una rotura di cazzo il pomodoro di più però facciamolo in live è uscito che hai venduto le galline a 80 euro come? non lo so ne ho meno? magari quando invecchiano le facciamo fare il brodo ah ogni tanto il gallo figlia ti fa fare soldi fenomenale non lo sapevo quindi sono immortali ok 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 no per il pomodoro non intendo il ragù per il pomodoro intendo il pomodoro per fare il ragù sì esatto uso la passata di pomodoro anziché usare anziché farmi non mi faccio la passata io la compro già pronta cioè non compro i pomodori per poi star lì a squizzarli farli andare e tutto quanto per fare la salsa compro direttamente la salsa mi faccio se mi drogo e poi sai che che pranzone che viene ma perché dovevi sponsorizzare l'app? mica mi pagano scusami non voglio sponsorizzare l'app per il ragù è di concentrato no bisogna lasciarlo andare con una bella salsa che è fame assorbe di più assorbe di più altro che concentrato lascia a fare dai che mi state facendo fame zitti e le guà non cagano più ci va il concentrato anche nel ragù ma io penso di buttarci un botto di salsa dipende da come ti piace il ragù dipende da come ti piace a me piace particolarmente rosso il ragù quindi sì lo lo comprerei cioè lo farei particolarmente rosso mi piace quando il ragù è rosso relativo senza macchina non è ma il ragù ce l'ha ok dobbiamo comprare altre zucche e peperoncini segreto sono gli aromi è una bella domanda è una bella domanda just overcock ti direi di sì però ma in realtà non serve a niente è sempre grow up network che è praticamente il network di cui faccio parte che è figlio di quello di youtube sono praticamente quelli che mi trovano i placement su youtube ma non è che ci abbia una valenza particolare soprattutto su twitch non è che serve anche se ci metti concentrato sei un tedesco attenzione non spammare ci sono delle regole non le hai lette devo andare dove devo andare no voglio andare al mercato le rose cazzo le rose no il twitchcon non mi interessa ma è già da un pezzo che trovo che il twitchcon sia abbastanza dimenticabile già dalla seconda volta che ci sono stato in america quello in europa per me è stato proprio terrificevole 1000 euro di semenze voglio tagliatelle ragù che palle io adesso mi devo fare quella cosa lì con la pasta quel ragù cos'è che era che ho fatto vedere prima non mi ricordo più figa stiamo morendo di far però le uova d'occa come riempiono questo si stiracchia in mezzo alla strada porca va che pace ciao Sally ciao Sally ciao Sally hai voglia di parlare buongiorno ti sei fatta male quando sei caduta dal cielo caduta dal cielo non mi apprezzo un po' di più però hai voglia di buongiorno ecco l'anello no il profumo il profumo grazie molto gentile ancora non ci sta ciao buongiorno sei ma gra non so cosa fare allora qui c'è un trasporta poi qui c'è zuppa di zucca piccante sai che quasi quasi vado a dargliene 8 a quello lì tu hai qua il teletrasporto poi dopo vendiamo al mercato così poi la prima volta facciamo anche una missione di questo tipo e questo in mezzo alla strada sta fermando il traffico le sai che quasi quasi vado a dargliele a sto stronzo che vuole la zuppa di zucca piccante eh c'è gatto poco cioè mi informo talmente tanto di tante cose che spesso me ne perdo più che altro passo molto più tempo davanti al montaggio e alla registrazione di video di quanto pensiate in realtà mi informo molto poco anche nel mondo dei videogiochi se non proprio quando ho tempo o me li notificate voi ma come mai me lo chiedi c'è qualche news grazie a case cloud buon salve gattone buona live e auguri a noi grazie mille mi piace mi piace informarmi un po' su tutto però è il tempo che mi manca sempre e no non sono abbastanza influencer in realtà perché gli influencer è veri e allora stai tranquilli perché sono nano vabbè ciao buongiorno ma grazie ciao buongiorno ho una voglia ho una voglia matta di zuppa alla zucca mi sta bene 200 euro iceberg grazie ecco qualcosa per te claire ciao ciao ehi sarei partito mi fa davvero piacere sì ciao ciao buongiorno signor sei molto erano 8 zuppe però 200 euro in realtà mi conviene vendere al mercato adesso le vendiamo al mercato me ne da mille probabilmente ho capito ciccio però non è che posso andare avanti a fare le regali costosissime a stasselli di merda si dovrebbe anche concedere e non fare solo la materialista material girl in material world oh sbirulina buongiorno questo è sì ho sbagliato assoluto allora guarda guarda quanto guadagno io con la zuppa di zucca 1500 euro se ne do 8 ma no dai mi ha pagato di più la signorina ok ci è andata bene ragazzi ci stiamo avvicinando in zona trattore un occhio lo andrei a buttare che dite quanto siamo sono a trattore dai andiamo a vedere sì mi ricordo anche un 30k 44 non li abbiamo zona ma non abbastanza magari settimana prossima ma questo qua poi ci si attaccano i vecchi arnesi o devo prendere questo che ce li ha più bassi che ce l'attacco più basso si attaccano eh infatti l'idea era salvare e poi provare vabbè vediamo vabbè vediamo 30k beh anche secondo me sì poi vediamo eh no beh assolutamente andiamo a casa domenica vabbè domani è una nuova settimana magari il prezzo scende domani dove cazzo sto andando ok non ancora western man magari sale e dormiamo per una settimana spero quasi che non troverai mai la lasagna della tua vita perché questa serie mi sta intrippando più di altered carbon ma io ti ricordo che lo scopo non è lasagnare ma fare il figlio e mandarlo a scuola guarda che trovare la lasagna è l'inizio della nostra avventura ancora deve cominciare qui la situazione non posso spendere soldi per la casa se no non possiamo più prendere il trattore non so quali sia il cap massimo dei figli credo due ma non ne sono no non lo so nella copertina del gioco ce ne sono due ma non so dirti no stavo pensando anch'io absel sai forse mi conviene puntare ai 50.000 al trattore quello più quello giallo stavo pensando la stessa cosa perché la differenza di prezzo non era così impertinente non lo so questo gioco è speciale questo gioco è veramente speciale sì la differenza sarebbe ancora meno perché noi dobbiamo arrivare ai 44k quindi sai che a sto punto sì puntiamo ai 50 quali figli a scuola tutti lavorano nei campi no noi stiamo lavorando una vita stiamo facendo una vita di stenti e di risparmi per poter permettere i nostri figli di fare una vita agiata devono essere dei ricchi principi proprietari alberghieri così a caso dici che si può vendere anche l'etame ah non ci ho pensato da qua? no non credo niente questi qui sono buggati bisogna uscire dal gioco per forza che poi lui fa l'ingegnere il contadino per passione è verissimo questa cosa non abbiamo piantato le cose che abbiamo comprato allora dammi un po' di pomodoro che ci serviva per le quest chiedono spesso e volentieri dei pomodori ecco qua però dammi anche i cetrioli per fare il sushi eh purtroppo lo fanno così che schifo e qua cos'altro gli mettiamo peperoncino che è quelli che si vedono si vedono ah si per fare sempre il sushi anche il peperoncino alè a posto perfetto perfetto cosa c'è qui a rara del campo no trasporta si ripara uno degli edifici ancora meglio poi qui a rara del campo no ricordo ricordo un cetriolo a cu tanto cielo dove andremo a finire signori miei eccola dov'è quello che mi darà questo vabbè adesso facciamo ciao Sally mamma mia devo guardare il culo per parlare allora Sally ciao felice di rivederti ho sbagliato a quanto pare hanno riaperto il vecchio mulino dopo il corona ecco ho portato questo per te che dolce sei davvero un tesoro non va più gli ho dato l'anello d'oro ciao buongiorno mi fa davvero vabbè eeeh dov'era qua ah qui gold digger anche secondo me seminiamola la devo fertilizzare prima no no gli ho dato uno solo di anello eeeh dov'è eccomi ciao buongiorno buongiorno avrei bisogno di un favore certo ti prendo il pacco ok ed è lì al profondo sud ok perfetto io mi fermerei qui prima per strada così abbiamo anche risolto una bella pacagna punti social sono molto importanti sì ci sono personaggi che hanno più doppiatori ma in realtà è lore hanno più personalità forse le rose sbloccano sbloccano la situa non credo tutti bipolari adesso fino fino a lì ci vado a piedi così perdiamo un po' di tempo che magari la la Sally si si ingrosisce anche con il vecchio metodo quindi non solo regali ma anche le chiacchiere addolcenti non so se mi sono spiegato però non è che ogni cosa che dico deve avere un risolto sessuale su via ciao Evelyn è lei? no ma è un uomo piccolissimo Carter ma è un uomino in miniatura guardalo ma che bello che sei sei proprio un uomento ciao buongiorno sono diventato io l'umento poi ho bisogno mi sta 1500 euro mi da ma siamo pazzi questo è folle va bene figa 1500 euro per riparare un edificio piccolo uomento del grande conto in banca oppure un grande uomento che insomma fa tutto nero non gli faccio lo scontrino e neanche la fattura tutto rotto ma guardate che abbiamo riparato edifici messi peggio per molti meno soldi arato campi giganteschi per molti meno soldi vi state dimenticando le nostre umili origini sì infatti ho messo una live intera per riparare dei campi che mi hanno pagato o uguale o uguale o anche meno andando su social ti pagano anche di più magari ma dici che va in base anche a quello cioè più sono figo più mi più sono rinromato sono fatto una reputazione ad alzare i prezzi beh il mercato è questo ok bisogna andare in alto adesso qui e il campo costano dai 100.000 in su però allora noi non ci siamo mai potuti permettere un trattone nuovo neanche nelle vecchie run quindi se il trattone nuovo è più performante mi permette di fare più campi più velocemente fanculo anche il campo nuovo lavoro più per gli altri però intanto faccio su dei gruzzoli maggiori no poi magari si fa anche il mordello quando funziona è tutto di guadagnato per le nostre orecchie ah i campi non costano così tanto Absor ok perfetto va bene dopo un po' le pagano il marchio poi mi mancherà quel rumore eh a me non mancherà alzare e abbassare il volume che poi non è detto eh magari fare un bordello incredibile pure gli altri trattori il trattore verde ha la stessa velocità del vecchio anche se si controlla meglio ok quello giallo perché a sto punto puntiamo al giallo molto più silenziosi ok perfetto io punterei al giallo a quel punto ma poi il vecchio te lo buttano via o puoi usarlo ancora perché così disseminiamo il gioco di trattori e arnesi agricoli e facciamo il quarto kage no non lo voglio rottamare rimane ci credo che ti paga così tanto l'hai riparato casa in due minuti effettivamente comunque è la casa delle mucche questa quando fai il quarto kage magricolo esatto tutto fatto io pensavo vendesse anche un altro edificio invece solo questo era bestia che culo lui è piccolo sicuro vive in una mucca dentro dici dentro la mucca grazie ecco qualcosa per te cavoia qualcosa per me 2500 euro e 3000 punti social butta via ci facciamo un chilometro a piedi adesso ma sabba walker io non ho la minima idea non lo so ti direi di no ma non ne ho idea non credo un altro trattore puoi usare attrezzi migliori sì però devi pagarli anche le attrezze sono abbastanza accessibili vediamo con calma in teoria possiamo usare le attrezzi arrugginiti sì però ne possiamo usare due per volta no? ok Marco due per volta in che senso? che c'ha l'attacco anche davanti a che serve l'attacco davanti? nel trattore sono qui per il pacchetto certo sì comunque ci mette anche poco a farsi chilometri questo uomo allora qui cos'è? qui cos'è? dai attacco anteriore e pesi per compensare gli strumenti grossi e altri accessori nooo e io che pensavo di fare mazinga niente come non detto quello giallo puoi usare per la coltivatrice davanti e l'asseminatrice dietro sì? ecco il pacchetto che hai grazie ok ma oggi ci abbiamo già lasagnato con la ragazza vero? baldi nove mesi dopo quasi due mesi che non guardavo Twitch rieccomi grazie mille bentornato riprovo a parlarci buongiorno non ora scusa non ora scusa ciao ciao ti sei fatta male quando che dolce no non ha funzionato va bene torniamo a casa ce la stiamo facendo ce la stiamo facendo quando è che c'è la gara dei fiunghi? due giorni perfetto raccoliamo il miele 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 devo dire ho corso venti chilometri nei campi solo per te che sarebbe stato anche vero allora annaffiamo le rose anche secondo me con alcuni con alcuni arnesi semi umido merda a noi serve l'umidissimo ti sei riposato e ti senti forte mi fa piacere ok ciao Rex sono andato a dormire nel mattina non sbagli oh guarda che qua è le giornate sono pesanti per un contadino beato te contadino beato te beato te una giornata da tre ore eh butta via però lavoro 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 una giornata di lavoro incredibile stessa frase da 5 live credo che non funziona più c'hai ragione che tu ha mangiato la foglia dici però lavoro da uomini altro che lo streamer sono d'accordo una giornata 1500 euro buttali via netti tra l'altro più i punti social la gente che ci vuole bene tutto quanto butta via effettivamente ci avete la ragione nel cuore ci avete veramente la ragione nel cuore signore fattura in nero ciao ricky grazie a te aspetta ma noi abbiamo altri regali ah si abbiamo un altro anello d'oro giustamente da darle con la comfort e alle stelle ok devo risistemarla un attimo stasera fa un po' cagare ma vabbè allora volendo noi abbiamo ancora 2000 kg di colza dai quant'è 4002 4002 mangiati un pomo due pomi allora vado a vedere quanto costa il tractor poi ci facciamo due conti che te ne fai se non la vendi effettivamente è un cazzo quindi potremmo tranquillamente venderla qua non mi ricordo mai allora abbiamo deciso di lasciar perdere il verde e puntare al giallo 53 ok siamo indietro e 107 punti social però questo 90 si fa si fa si fa si fa si fa allora il funghi domani il giallo va anche più veloce beh per forza il giallo si è aumentato cambio di settimana in settimana dobbiamo ostentare i soldi agricoli addirittura allora R e Q si l'audio fammi abbassare un po' l'audio per favore se no come al solito non vedo l'ora di smettere di fare sta cazzata vediamo se al mulino raccolgono ancora un po' di no grano e orzo niente l'obiettivo è l'agromercato non si può vendere da altre parti vero confermate no in realtà non mi pare sei più ricco di un re conferma Absel perfetto non ti ne porta tutti 2000 kg 49% si non sarà un gran guadagno ma sempre meglio di un calcio in faccia no ciao giulsa stasera non lo sappiamo paccia ma tanto ci vuole nulla a salvare prima di buttarci nuove avventure mirabolanti antarist jack tre mesi grazie sei più ricco di un re grazie a giro per i suoi 30 mesi sei più veloce a piedi beh vabbè sì quello sì però c'è anche da dire che a piedi non posso trasportare queste cose grazie a blue boat per i suoi 10 mesi sinistra porti la mano 2000 kg di colza poi come fai a mani a mano così vabbè ma ecco i trattori ci stanno che costino tanto sono trattori se compri tutto di nuovo i punti social si consumano infatti tu puoi evitare di utilizzare i punti social puoi pagare cash puoi pagare cash ma io sono più ricco di un re non ho idea se consumando i punti social il lasagnamento sia inferiore non lo so questo lo studieremo paghi comunque cash paghi la metà però tu puoi pagare 100.000 al trattore cash oppure paghi 50.000 al trattore e 100.000 punti social ah è una bella differenza eh paghi la metà cash anonimous twicher user cinque mesi contati ma il mio piacere di seguirla ormai dura due anni dei primi winner winner chicken dinner su player mamma mia grazie mille santo cielo no è un gioco della madonna questo assolutamente lo ritengo il migliore nel suo genere con i suoi difetti però è il migliore del suo genere perché ti permette di fare cose che non vengono fatte normalmente va dopo no i trattori non si ripetono morfi sono cose differenti si dovrebbe essere uscito per la play 4 questo qui hai i suoi difetti ma puoi fare tutto tutto mancano i dungeon ma normalmente nella vita agricola non ci sono no non sto puntando al più economico sto puntando a una via di mezzo che ci possiamo permettere il concessionario ma tu sei quello che che le lasagna tutte dai trattore alla metà no migliorare la casa non da punti social non lo so Joseph non credo che scorci mozzafiato eh dobbiamo tagliare un po' l'erba ma va bene il colore non lo puoi scegliere ma lo puoi ricolorare dopo anche questo lo posso ricolorare perché non ci voglio buttare via i soldi sai che non so cosa fare stasera ho un paio di giochini che mi hanno dato da provare che quasi quasi però non lo so ancora vorrei far notare che il cane gli bastano due carezze e ci vuole bene il gatto di merda invece vuole il pesce ogni volta giusto giusto per dirne una no santo cielo che male che ho fatto questa manovra non ti castrare non ti castrare non ti castrare non ti castrare non vedo non vedo non ti castrare Niente ho sbagliato La prima curva è finita per sempre E la porta l'ho ristrutturata io Per quello è così dura Steffy Fox 100 bits Con questa piccola donazione mi scuso per prima Comunque grazie mille per questa bellissima live Eh? Cosa hai fatto? Grazie Devo preoccuparmi Spam non voluto? Non ho visto probabilmente se ti hanno chiccato i mod Vabbè vai tranquillo comunque Cioè anche perché Non ci si incazza mai qui A meno che qualcuno non venga proprio a fare delle cose esagerate Mi conoscete Sono abbastanza tranquillo Devo pescare il pesce perché sennò il gatto di merda non ci sta Che palle E se il gatto di merda non è contento I topi mi mangiano il raccolto Sei più ricco di un re E non li vedo Lo faccio quando li vedo Ma non li vedo Il cane è sempre felice Basta in due carezze Sono a destra? Ah giusto non li avevo visti Ci provo Che occhio che avete comunque Bravi Certo che è incredibile In quale gioco Ti fanno pescare Agricolare Lasagnare Figliare Acqua molto È effettivamente molto densa Non li vedo più Gel per capelli Qua ce n'è uno Troppo Che palle Buongiorno Buongiorno alla buon'ora Anche ora ti connetti Non li vedo Non li vedo Eccoli lì in fondo Vai Può anche notare Grazie a raffu per la sub Niente Niente oggi Niente 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 pesce oggi Ma per me hai dormito Esprit Di la verità Hai dormito Con la scusa del coronavirus Come fanno tutti Cazzo ma oggi Ah no domani L'evento del Cosa Ci abbiamo ancora Un anello d'oro Sì Allora Dammi del latte Con la condensa Tutto Bagnato Ok Questo Uova Uova manetta Vai Visto che bella La cucina nuova Qua non si va da spese Eccoci qui Ecco qua Mercato agricolo Che ricordiamoci È aperto solo D'estate Perché lei è vestita così Poi d'inverno Lei non può più Questo Sì Ho sbagliato Assolutamente Allora Dammi Questi 894 euro Per il latte 1.800 per le uova E 76 euro Per Il miele Nice job 47.000 Ci stiamo avvicinando Sempre di più Andiamo dalla nostra Lasagnante Beh anche già Mezzogiorno Tra l'altro Cazzo c'è una voglia di Ecco vedi Mi sta sul cazzo Che oggi Devo aspettare il corriere Non posso neanche Prendere adesso E andare a comprare Un po' di ingredienti Per fare le lasagne Che palle Che palle Buongiorno Ciao bellezza Sei molto gentile Non aumenta più eh Ormai per aumentare Siamo costretti A regalare Ti è l'anello D'oro Che ho comprato Dal tabaccaio Sei molto gentile Yes A fine live L'amore comincia Avevo proprio voglia Di rivederti Vi lascio Vi lascio Con questo Si sposa subito Absel Si sposa subito E' meglio aspettare domani Dimmi tu Non lo sa No Absel Non lo sa Si sposa subito Secondo la guida E allora vi lascio così Domani Domani Sei così bella Che questa sera Sicuramente ti sognerò Domani Mi fa davvero piacere Grazie Domani ci sposiamo Domani Ci dedichiamo tantissimo Si 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 Domani mattina Vi voglio tutti qui alle nove eh Guardate che è la prima cosa Che facciamo Prima cosa in assoluto Domani mattina Ci sposiamo Anzi guarda Salvo qua Salvo qua Così non possiamo sbagliare Salvo qua Domani Prima cosa che si fa Vediamo se ha salvato 12-0-2 Si perfetto Wow Wow Ah Domani Domani Dovete prendere il vestito Siete tutti invitati Ragazzi Grazie mille Per donazioni Super sub Come sempre Ci vediamo stasera Con non si sa che cosa Adesso mi invento qualcosa Virai Due termosifoni E gli diciamo Domani ci sposiamo E siete tutti invitati Al matrimonio Grazie a tutti ragazzi Veramente Mi sono veramente divertito Un sacco E noi ci vediamo Stasera Ciao belli Grazie a tutti